Facciamo questa, dai, che è brutta, non benissimo. Prima, il nostro EP, c'era quell'uomo con la cresta un po' sbagliata lì, con gli occhiali. Guardatelo tutti male. Che assomiglia a quello col cappello. Però, non ha il cappello e ha la cresta spostata male. Gli EP costano 5 euro l'uno. Giulia Lascara, ma sentite qualcosa fuori? Si sente fuori, non sente nemmeno che la sto chiamando. Potete enterarci, Giulia. Giù, cioè. Mattia, venite. Comunque, le EP costano 5 euro, ci sono entrambi, per l'età costano 5 euro l'uno. Se ne comprate due, vi diamo il regalo, un fantastico segno. Se ne comprate due, costano 10 euro. Però vi regaliamo un segnalibro che l'altra sera, io, Gaia e Giulio abbiamo stirato, ritagliato a mano. E invece io e Davide ci divertivamo. Ognuno per i cazzi suoi. Cioè, uno da un'altra, uno dall'altro. Cioè, giusto per dire. Se non mi sbaglio, avevo 16 anni. Per tutto soledà, ma non sembrava da starti, come i miei messaggi d'amore da 140 caranti, che forse poi non leggevi più. Se non mi sbaglio, avevo 18 anni. Al partito, non smettevo di breccarmi. Mi è ripresentata, solo la targa sera, che prima è andata a casa da voi. La chitarra! Se non possiamo essere, soltanto di non essere quella ragazza. Non è gran coraggio, le mani rinforzano in terra, per te, quanto di tutto. Cosa mi rantevo, passi, lavori, non la mori. Ci senti solusi. La provincia c'è scesi. Quando mi sono trasferito per l'università. Mi è favore, toccato il suo caldo. In quel periodo tu facevi la risa. E quando tornavo, per chi va da te per me. La provincia mi ti serve. Sono sicuro un po' si truca la sera in bagnole. Avevo le puto fumato e non avevo voglia. Tu eri splendida nel tuo abito la sera. Anche se la notte già da un po'. E quando ci sapessi, ho cercato di non essere quella ragazza. Non è gran coraggio, cinque anni fa per te, quanto di tutto. Non mi racconti, mi amori, non mi amori. E ci senti solusi. La provincia c'è scesi. 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 Grazie a tutti.